Il PNRR, conduttore di Lease 2021, il seno del leasing, il PNRR, come fa arrivare il piano di ripartenza alle piccole e micro imprese? Il PNRR, anche difficile da dirlo, non prevede chiaramente le piccole e medie imprese come attori principali, perché gli investimenti andranno a grandi realtà, però le piccole e medie imprese saranno chiamate a lavorare per il PNRR in modo indiretto, di conseguenza dovranno fare degli investimenti, piccoli beni strumentali, mobilità, i piccoli investimenti che servono alle piccole e medie imprese. Il leasing è il classico strumento, è il strumento principale più importante per gli investimenti, quindi noi società di leasing, noi BCC Lease dovremmo essere a fianco delle PMI, sia noi se clienti ma anche fornitori, perché non ci dimentichiamo che nel leasing ci sono tre attori, la società di leasing, il cliente e il fornitore, e quindi insomma aiutando clienti e fornitori aiutiamo il PNRR. Voi utilizzate molto il canale di vendita del fornitore, con quale vantaggio? Il canale di vendita del fornitore è importantissimo, primo per il cliente, perché il cliente quando va a acquistare un bene strumentale va dal fornitore ad acquistarlo, ma noi facciamo anche un servizio al cliente in questo senso, perché noi selezioniamo i fornitori migliori, selezioniamo anche i beni, li valutiamo e aiutiamo quindi i clienti a fare investimenti consapevoli e li aiutiamo anche a farli velocemente nella maniera giusta, insomma. Questo canale di vendita aiuta in qualche modo anche la circolarità dei beni, che è un altro grande tema del grandile europeo? Assolutamente, noi abbiamo il leasing operativo, la locazione operativa, il cosiddetto anche noleggio. Il noleggio è il principale strumento per i beni che hanno una elevata obsolescenza, quindi il cliente li prende a noleggio, non li acquista, non li prende neanche il leasing finanziario, dopo 4 anni, 5 anni, insomma, dopo la loro durata o il loro utilizzo, il cliente prende il bene e lo ridà al fornitore, il quale può far fare al bene una seconda vita. Il fornitore, ad esempio, può utilizzare il bene come bene sostitutivo nel caso di guasti o sinistri, può smontarlo, prendere i pezzi migliori e utilizzarlo in un canale produttivo diverso, insomma, può far fare una seconda vita che un cliente avrebbe difficoltà, mentre il cliente, sempre tramite il fornitore, può prendere un bene nuovo. Quindi l'economia circolare ha sicuramente nella locazione operativa uno strumento importante. Grazie a tutti!